L'Ordine degli Avvocati di Bari ha scelto il Teatro Petruzzelli, luogo simbolo della cultura barese, come sede del 31esimo Congresso Nazionale Forense. Dopo 50 anni, gli avvocati di tutta Italia si ritrovano a Bari per discutere di luce ed ombre della professione e in particolare per invocare riforme in grado di garantire i diritti dei cittadini e la sopravvivenza del settore. Secondo i dati forniti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, fra il 2007 e il 2010 il reddito medio annuo degli avvocati è sceso di quasi il 7%. Ciò nonostante nel 2011 gli avvocati iscritti agli albi forensi in Italia hanno superato quota 220.000, 4.000 in più rispetto al 2010. La presentazione del Congresso Nazionale si è tenuta nella sede dell'Ordine degli Avvocati di Bari, un'occasione per anticipare i temi di discussione di questa tre giorni, diritti cittadini e ragioni dell'economia, giurisdizione e diritti dei cittadini, ruolo dell'avvocatura. Il Congresso barese si annuncia epocale perché è chiamato a discutere la riforma forense, approvata dal Senato e poi passata alla Camera ed ora nuovamente in discussione al Senato con alcune modifiche. Una riforma che non mette tutti d'accordo ma che, sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, deve passare. La riforma, pur modificabile o migliorabile, deve passare adesso. La riforma deve passare adesso. Se non passa adesso, con lo scioglimento delle Camere il 18 di gennaio, probabilmente dovremo aspettare altro mezzo secolo. È una riforma che ammoderna l'avvocatura, porta dei vantaggi agli avvocati ma soprattutto porta dei vantaggi ai cittadini. Quindi non è una riforma autoreferenziale ma una riforma che è in linea con le aspettative del Paese. Al centro della riforma le regole di accesso alla professione e la formazione. Tre le possibili vie. Cinque anni più uno, quattro più uno, ancora cinque più uno ma con l'ultimo anno di formazione tra università e scuole forensi. Tra queste Maurizio De Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, indica la seconda e spiega perché. Noi siamo per i quattro più uno perché se dobbiamo fare la selezione e i giovani preparati che sono nel corso, che hanno buoni voti, che sono volenterosi, non possono essere danneggiati a fare un sesto anno perché il sesto anno allunga enormemente poi l'accesso alla professione.